La redenzione in Cristo nel momento in cui viene accettata diventa una realtà interiore di ciascuno di noi. Essa lavora le anime, illumina le intelligenze, stimola la volontà. Più che è un esempio ed una realtà morale, essa è una realtà divina e Cristo presenta in noi mediante la sua grazia salvifica. È una vita nuova perché l'uomo affronta con una nuova prospettiva. Se prima essendo nel peccato e perciò separato da Dio viveva concependo la vita come la realizzazione dei propri desideri carnali, ora avendo realizzato la salvezza in Cristo, comincia a viverla in funzione del traguardo celeste. La fede che salva non è un principio scoperto nel corso di un'analisi descrittiva e nemmeno è individuato in un processo di astrazione, ma è colto per riflessione. Ma rientrato in sé, si alzò, è scritto nella parabola del figlio del prodigo in Luca, capitolo 15, versi da 11 a 32. Noi comprendiamo la necessità di rispondere alla chiamata divina quando lo Spirito di Cristo fa brillare ai nostri occhi le qualità divine tra le quali splende in un modo specialissimo l'amore incommensurabile di Dio. L'opera della redenzione ci scandalizza, ci lascia perplessi perché l'uomo naturale conosce il Dio astrato dei filosofi, non il Dio concreto e vivente dell'Evangelo. I preconcetti della nostra natura umana conducono soltanto ad una falsa redenzione, spogliando l'atto salvifico della grazia, del suo carattere soprannaturale, del suo valore divino, della sua vera efficacia. La grazia rivelatrice di Dio in primo luogo si rivolge alla nostra fede, poi e soltanto allora alla nostra ragione.